Tried so hard and got so far But in the end it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end... Bentornati ragazzi sono sempre Under of the Darkmist Oggi volevo provare un altro champ Dopo il fiasco totale con Foxtrot che è andata Una merda la partita Facciamo un gameplay con Shane e Aurox Che mi ricorda un po' Blue Dragon Voi che dite? Vediamo con la G Vabbè diciamo che l'immagine parla da sola Vediamo le abilità Shane si occulta per un breve periodo Quando l'occultamento termina O viene annullato Oro scolpisce dall'altro In fece di danni dall'aria Quindi si attiva e si disattiva con la Q Oppure finisce con un suo tempo Aurox si lancia in avanti E attira il primo nemico che incontra fino a Shane Infligendo danni e evoca Aurox in una data posizione Sono buttati in aria Diciamo che non è malissimo Non mi dispiace Quando Aurox viene disattivato Shane si muove più veloce per 2 secondi Ecco questa è inutile come una forchetta nel brodo Non abbiamo L'healer meno male Il cecchino Foebe d'attacco E Kelvin che è tipo malfite di lol Che è support forse Contro Reina Marchese Benedict Melka e Acticus Non ho letto Ve lo assicuro Quindi Mentre a scene occultata D'attacco furtivo Prete un'ora d'effetto Che danno i genemici vicini 201 Danni Diamo tutti i danni Scudi Non me ne frega un cazzo Non giochiamo con gli scudi Noi cattivi Pesanti Allora col tasto destro Abbiamo una specie di boomerang Ok col tasto sinistro questo E se schiacciate la rotella Non è malvagio dai Questa è la Q Si occulta se la rischiaccio fa il danno E la E è questa Dai non sembra malvagio Proviamola Proviamola Shane e Aurox Anzi proviamo gli Shane e Aurox Perché non mi sembrano Brutti come player Allora sono 3 a destra Io direi di andare a sinistra Perché Se no lasciamo da solo Marchese credo Perché Marchese È un fattuto camper Ecco Come quello stronzo Di là dell'altro Ho già potenziato la torre Piacci di culo Ciao Atticus Tiriamo un po' di pizze Tanto Sta sui coglioni Cioè ma sto prendendo Le fucilate da Marchese In culo al mondo Oh madonna Adesso però ha rotto i coglioni Ok ho fatto un assist perché me l'ha fottuto qualcuno Non ho i soldi per fare la torretta curativa È una bella merdata perché mi ammazzano Oh c'è Benedict Caino Proviamo così Madonna Che grab raga Noo che infame Vabbè Benedict è come Caldarius È una merda Scappa e basta Sono solo infami Guys I need the healing station C'è anche push to talk Che è molto comodo Ahia cazzo Se c'è qualche cane Che riesce a mettere Una stazione curativa Oh c'è Melka Noo Ci proviamo Abbiamo fatto la cagata Sì Sono morto perché Mi ha stunnato Melka Melka No il cazzo Non è vero Mi ha ucciso Melka Ha fatto l'assista Atticus Che ne dici Non ho visto però con che abilità Proviamo ad avanzare raga Dobbiamo farmare un po' Ci prendiamo i cristallini Altri cristallini Almeno ci facciamo un po' di soldi Per l'healing station Se no Andiamo malissimo Ok Cristallini Che dire di avanzare Vorrei giocare insieme a Liler Ma Liler non riesco a capire Perché ogni tanto Sparisce dalla partita Proviamo a mandarli dentro questi Marchesi lì Primo prima Non è il culo Anzi Ci vado adesso Aucce Ok Ho fatto una bella cagata Meglio se mi trovo Prevedo solo la morte Ci riproviamo un'altra volta Nel frattempo Madonna mi stanno sparando Da qualsiasi L'ha schivato Andiamoci perché c'è Il bazzucone Mi ha rallentato Marchesi Devo farmare raga Devo farmare Delivellato Farmiamo un casino Così poi ce li inculiamo male Danni Dove c'è scritto danni Facciamo Oh madonna Che mira al culo Però Madonna Oggi raga non c'ho mira E se ce l'ho ce la mira al culo Qua c'è Benedict Ok Questa Un po' di pizze Le ritiriamo Avanti Inziamo Benedict E su lì Camper Mi sembra di stare su code Io intanto Parmo un attimo Come sono maldestra Benedict Ci so ancora fare Proviamo qua In questa zona non c'è nessuno Non c'è praticamente nessuno Ok Ucciso Perfetto Ce l'ho fatta Con un po' di fatica Ma ce l'ho fatta E Perché Con la Q Max avevamo il boomerang Ma siccome io non sono tanto da boomerang Non lo uso molto E' comodo Perché è comodo Camperata Dun 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 Madonna Che pizze Vediamo farci atti Oh cazzo No ok Quella se l'hai mangiata Carina Si teletrasporta Attico Può essere utile Anche Potenziamo la torre Anche se non è proprio Il mio genere Bene Vieni a pescare con noi Oh Che uccisione Raga Mamma mia Ahia però Lo sto prendendo Ciao Ciao Pazza Pazza No sta andando di là No sta andando di là Io vado di occultamento Ok Lo provo Lo incastriamo malissimo Poi No Che spiga Ciao Cazza Vieni qua Mi devo dare Scappa 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 Soldi Devo andare perché mi sta ammazzando Con la scusa facciamo anche i cristallini Non è male Shane e Aurox mi piacciono come campioni Devo solo vedere un po' come si usano Devo cercare di arrivare alla finale Almeno in questa partita Perché con Foxhaw È stato un disastro Poi potenziamo Questa Che ci aumenta le cure ricevute Che lì Una volta mi ha curato Ora basta Non mi correva mai più Per tutta una partita Penso Poi mettiamo questa Qua vedo Oh No Che merda Fui Fui Ma che culo Meno male Con l'assist Non ce la faccio proprio Ucciderlo Quello lì Ha inculato come pochi Aia Ah Non super scagnozzo Ecco cos'è che mi faceva un po' male Aia Sì ma Qua c'è qualcosa che non muoce Ma Tu che Cavolo vuoi No Sto capendo nulla C'è glielo mandiamo anche noi Perché mi hanno rotto Mi hanno rotto i coglioni Gagnozzo gigante schierato Conducetelo al nostro altare Io mi curo No Non deve Assolutamente Entrare questo Ok Non è entrato Vediamo cosa Caspio Sta succedendo Ma raga Sì Andata Qua c'è Melka No Boomerang Che culo Ciao Ciao Mi sta sparando Mi sta sparando anche la torre Mi sta sparando anche la torre Vieni qua Botte E io li evoco Aurox Vediamo cosa fanno No dai Non puoi scappare ancora però Assist Grandissimo Forse Marchese da lontano L'ha ucciso Soddisfazione del nemico al 50% Spostamento altari Degli scagnozzi nemici Benedikt Che scapperà la vita Noi gli spacchiamo L'hilling station Là c'è Melka Questa meglio si scappa Perché fa una brutta cosa Queste forse Erano di Benedikt Oh è rimasta qua però No L'ha saltato Non la vedo Devo stare attento Questa è veloce Mi sta facendo male cane Lascia tipo una specie di Scossa che mi fa danno Potenziamola al massimo Che tra l'altro Non ha neanche bisogno di vita Questa è morta Ok Atticus Non l'ho preso Dove cavolo è andato Boomerang 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 Non è andata Io campero Me la campero raga Ho deciso Ciao No Non perdiamoli di vista Qua ce n'è uno Marchese è morto lì Tu anche Perfetto Questo glielo spacchiamo Perché L'acceleratore per la squadra nemica Ma il deceleratore per la nostra Ma dove cavolo erano Aucce Penetrazione Scudo Meglio un po' di penetrazione scudo Anche se avrei messo i danni Ma ho letto dopo Scusate Ma c'è Benedict Comunque Lillard Non sta Oh Che culo Si Meno male Ha fatto una cazzata Era scappato Questo ne poteva benissimo andare Non lo capito perché ha fatto sta coglionata Parmiamo Avanziamo un po' Io prendo i cristallini Perfettissimo C'è un PG Chi è che è? Ah il Benedict Benedicte Non lo riesco a prendere C'è così in alto Potenziamo questa Allora No è troppo in alto Ok Proviamo a far danno Ad Atticus Che scappa Giustamente Io vado in stealth E vado più veloce Con la nuova abilità Buonissimo E farei un giro da dietro Quasi quasi Però adesso Mi pare che lo stun ne basta Infatti Quindi non va bene Si è preso paura Non ci ha visto Ok Morta Basta Quanti sono Forza massima Scudo Mettiamo un po' di rigenerazione salute Non si sa mai Se dobbiamo fare le proate Questa la stunniamo qua Morta Gli spacchiamo Living station Scusate Ma bisogna infierire al massimo Non si lasciano i testimoni Nessuno vivo qua Io non vedo nessuno Sparo i boomerang I boomerang Scusate Ciao Ciao Ora però mi devo dare Mi sa che li ha fatti un po' incazzare Scagnozzo gigante in uscita Portatelo da Minrek Un po' di faro Oh merda Era Hatticus Corretta Ok Oh no Prendo i cristalli Che almeno Se serve da potenziare qualcosa Per il team Lo faccio Ricordatevi Non teneteli mai Ma usateli sempre No Hanno rimesso sta merda Ahia Ahiaiaiaia Scappa Mamma mia Le ho fatti incazzare Qui raga In tre sono venuti Che tra l'altro Stiamo anche perdendo Non me ne ho accorto Stiamo perdendo Perché stiamo andando a caso Io infatti sto giocando un po' per le kill E sto sbagliando Adesso proviamo a recuperare Andiamo a mandargli Un po' di minion dentro Vediamo se ci sono i cristalli Si I nemici hanno uno scagnozzo gigante Adesso lo chiamo anche nel gigante Il nemico ha schierato uno scagnozzo gigante Distruggetelo Prendo questi cristalli Gli lo mando dal lato opposto Se appena vede dove lo spawnano loro Gli lo mando nel lato Differente Almeno proviamo ad avanzare noi dall'altra parte Ok L'hanno mandato a sinistra E tra l'altro È da solo pure Non mi fa Devo ucciderlo assolutamente Morto Potenzio Qua c'è qualcuno che morirà Ok Andiamo a mettergli lo scagnozzo gigante Che cavolo è successo Sono tutti di là però Mannaggia Abbiamo uno scagnozzo gigante Portatelo in sicurezza Al nostro altare Ok Non vedo più dove cavolo sono i nemici Adesso premiamo a pushare E recuperare un po' Abbiamo recuperato di poco Ok Madonna benedetta Noti coglioni però Adesso glielo evoco sopra No Ci ha salvato Però è qua Grandissimo qualcuno Forse Marchese Quella assist Ok però Marchese Questo Gliela spacchiamo Sono solo Maia merda Ma che cazzo è Ok Rimani Sono nata una vita Che già è scassato Devo scappare Devo scappare Cavolo Mi stavo ammazzando Viaggio verso l'altare Io gli mando questo Così Magari lo blocca E metto 6 secondi Attacco furtivo Aumenti i danni effetti Dall'impatto finale Dell'attacco furtivo No aumentiamo i danni Dell'attacco furtivo Proviamo ad avanzare Dove sono? Ok Atticus è lì Qua i minion li abbiamo bloccati Però Sono tutti là Non conviene molto Ciao Benedetto Quello è Benedetto Naga è Benedicte Che prende i soldini Sono in base a loro A cazzarare Oh qua c'è Melka Melka mi sta sui coglioni Ve lo dico Rincorriamo Melka Qua c'è qualcuno C'è Marchesino Stunnato male Oh madonna Perché devo così Sto morendo Qualcuno mi leva Ma che cavolo è successo Qua non l'ho capito Nemmeno io Lillard non Non capisco perché Lillard non Non è che Gli mandiamo dentro No Questo glielo sponiamo Proprio davanti Ok ma non glielo Un cazzo Adesso scappo Perché se no Mi ammazzo Strano Alla finale Non ha levato tantissimo Prima di seguire Ok Assisti Ok abbiamo Grabato Reina Proviamo A uccidere Reina Ce l'ho fatta E sono morto anche io Però Peccato Il nostro scagnozzo gigante In uscita Portatelo Da Rack È molto combattuta Sta partita Siamo Dai abbiamo Un discreto vantaggio Però Però dobbiamo cercare Di non fare Le coglionate Finali Perché se ci mandano Dentro Uno scagnozzo gigante Mi pare che sono 100 punti Credo Quindi andrebbero A 475 Se arriva ai 500 Fate voi Ne mancano 8 minuti e 55 Ma Non arriveremo mai A finirli Anzi lo spero Perché non lo voglio Quindi adesso Abbiamo 858 Pushiamo A sinistra Che è la lane Un po' più semplice Mettiamo lo scagnozzo Cazzo Non c'è Che sfinga Allora andiamo A ammazzare questi qua Proviamoci Benedit No Ok è morto Spacchiamo Questa merda Quando Disegniamo Un nemico Che non vedo Che cavolo C'è Ah Qua c'è Potenziamo Questo Ogni tanto Mi tira le laggate Non capisco perché Atticus Ok è andato via Non abbiamo I minion di qua Porca puttana Che sfiga Siamo senza Minion Se no Gli mandavamo Dentro di qua Proviamo Adesso Qua Stanno arrivando Perché c'è il segno Dello scudino Però Stanno arrivando Anche loro Uscio Ok Sono salito A livello 9 Potenzio alla finale Non so Potenzio a casa Non c'è nessuno Che difende Tra l'altro Buono Adesso Se vanno dentro Abbiamo vinto Lui lo blocchiamo Vai 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 Non ci credo 97 Che culo Abbiamo vinto Ce l'abbiamo fatta Sì ma non si può 497 Ma che cazzo Di sfiga Vittoria Vittoria Buono C'è Neaurox Mi è piaciuto Come gameplay Molto figo Interessante La finale È carina È ad aria Però non capisco Se fa danno È tutta una scena Proviamo a vedere Nella prossima partita Intanto Io livello All'11 E il grado Del personaggio È salito a 4 Mi ha dato Un aspetto Nero e blu Soldi Buono raga Dai ragazzoli Ci vediamo al prossimo video E poi ne proviamo un altro Ciao ciao